Un viaggio attraverso le bellezze e unicità aquilane che a breve verranno restituiti alla città. Officina L'Aquila, come sempre, porta la gente nei principali cantieri della ricostruzione, nello specifico in casa Jacopo Notarnanni, in palazzo Carli Porcenari, in palazzo Camponeschi, nel teatro comunale e nel palazzo Ex Carispac. Una finestra delle tecniche di restauro e delle principali tecniche di consolidamento per mostrare ai visitatori la bellezza di palazzi antichi e storici che a breve verranno riconsegnati ai proprietari in tutta sicurezza, ma senza aver violato i paletti della sovrintendenza. Vecchio e nuovo che si fonda in uno spettacolo unico e immagini esclusive. Tre gioielli che presto torneranno fruibili è anche il teatro comunale. Per quanto riguarda i posti del teatro si manterrà quello che era in origine? Sì, superiore a 500. Anche se noi modificheremo, stiamo studiando per cercare di capire come era l'impianto originale della frizione delle persone. Sui tempi invece di restituzione alla città del teatro? I tempi sono fino adesso, li abbiamo mantenuti perché non abbiamo trovato grosse problematiche di intralgio e sono previsti per la fine del 2018. Nei cantieri anche la stampa estera che ha potuto apprezzare e ammirare i lavori e i bellissimi restauri. In alcuni casi, come Palazzo Carli Porcenari, gli interventi hanno scovato degli affreschi che erano sconosciuti persino ai proprietari in una stanza che veniva solitamente usata come magazzino. È bello questo connubio tra Smart e Historical City, dice il corrispondente della Tax di Berlino all'Aquila in questi giorni. Ma intanto già sta selva di gru si vede che qua si lavora, che è ripartita la ricostruzione davvero. Poi ho notato già un bel po' di palazzi, palazzine rimesse a posto e adesso andrò a vedere il centro storico più da vicino. Sono molto curioso di vedere questa città, questa ricostruzione in corso con l'approccio di una Smart Historical City, di una città che si rimane o ritorna, anzi per essere più precisi, quella che era, un centro storico bellissimo che mi ricordo prima del sisma infatti, però sfrutta, sembra quasi brutto dirlo, sfrutta questa occasione della ricostruzione per renderla modernissima, renderla una città all'avanguardia.